Sequestrate, droga ed armi, tre arresti. E' il bilancio dell'operazione straordinaria di controllo del territorio ad opera della Guardia di Finanza di Napoli nell'area Oplontina e Stabiese. Il gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata, supportato dai colleghi del gruppo pronto impiego di Napoli e da due unità cinofile, ha arrestato in flagranza di reato tre giovani, fermati al casello autostradale Torre Annunziata Sud, mentre trasportavano mezzo chilo di hashish. L'attività è stata svolta nell'ambito dei servizi alto impatto disposti dal comando provinciale di Napoli, volti ad intensificare i controlli nel territorio plontino a seguito dei gravissimi episodi verificatisi nella zona negli ultimi mesi. In particolare, durante il controllo della loro autovettura, i tre hanno mostrato sin da subito grande agitazione, consentendo al fiuto dei cani antidroga, Nero in forza alla compagnia di Capodichino e Cafor in servizio ai baschi verdi di Napoli e ai loro conduttori di scoprire la sostanza stupefacente occultata in un pannello di uno sportello dell'auto. Nella stessa giornata, la compagnia di Castellammare di Stabia, nel corso di analoghi servizi di controllo del territorio, ha rinvenuto nel centro storico del comune Stabiese, nascosti in un nascondiglio ricavato nel muro perimetrale di un'abitazione, oltre 330 grammi di marijuana, circa 200 grammi di hashish e una pistola a tamburo calibro 22. Sequestri effettuati per ora a carico di ignoti. Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni. Grazie. 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 Grazie.